Ehi, ti è piaciuta la cena? Ho fatto il mio meglio, non solo un cuoco, però ci ho provato, dai. Adesso possiamo passare ancora un po' di tempo insieme prima di andare a letto, insomma. Va bene? E allora, prima di tutto vorrei accendere un po' di questo canale, se non ti dispiace. Un po' per creare quell'atmosfera un po' lì. E poi perché secondo me ha un odore stupido. Giusto un pochino. Per conoscere la serata, ecco. Questo scoppiano. dare dello stupino in legno mi fa proprio morire. Adoro troppo. Ancora un pochino di acqua. Ok, quindi abbiamo un po' come dire presentato la situazione di oggi. Poi visto che fa caldo, caldo, perché in questi giorni fa un sacco, un sacco caldo, ho deciso di volerti bagnare un po' il viso con dell'acqua fresca. percentuale! Faccio un po' d'acqua, eccetera! Percivalo il compagno! Esa, apposta un po' fuori con del luogo va volerciù mi fa��? E appunto prima faccio un po' così. Adoro questo suono dell'acqua, ma adesso metto qua da parte questa bacinella perché ho preso queste due pastigliette che in realtà non solo pastigliette ma mini asciugamano che si attivano con l'acqua e ne userò una e vediamo cosa succede. Allora, sono tipo fatte così. Ecco qua. Subito appena immersa in acqua si gonfia e diventa un asciugamano esattamente come volevo io. Adesso me lo metto un po' qua sul dito e te lo passo su tutto il vino. Soprattutto il contorno occhi, le guance, la fronte, il metto, tutto tutto il vino. Così poi lo ribaglio, lo strizzo un po' e li cuocio. Così secondo me va bene. Quindi ti ho un po' rinfrescato il vino. Adesso intanto che aspettiamo che si asciuga. Ho qua una spazzola, vorrei pettinarti un po' i capelli. Dobbiamo. Possiamo fare una spazzola, due. Così sopra, così, come bello. Così sì? Di nuovo. Can�ari un po' le regno. Così, sai. Così, sai. brush 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 Ok, allora anche i capelli. Li abbiamo sistemati. Adesso, guarda, visto che fa un po' caldo, io ho acceso il condizionatore, però dobbiamo dare comunque un attimino di tempo per diumidificare la casa. Così se vuoi intanto ti do questo ventaglio. Ok. 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 Io questo te lo lascio. Ok. Perfetto. Tutto a posto comunque. Ti stai anche rilassando, almeno un pochino. Ok. Ok. Io qua adesso ho ancora questo spazzolino nuovo di mete che ho preso per te. Per appunto fare... Così. E la parte... Ok. 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 un mega cuscino che posso darti, tutto peloso, che fa un suono stupendo quindi qua mi devi far sapere tu se lo vuoi o no ad ogni modo diciamo che per stasera mi sembra di aver preparato la serata a sufficienza adesso tu stenditi pure sul letto, accendi la tv, decidi tu se vuoi guardare un film, una serie tv, quello che vuoi io mi assento diciamo così giusto un paio di minuti per mettermi il pigiama anch'io per lavarmi i denti anch'io e poi torno qua quindi a meno che non vuoi dirmi qualcosa, non c'è qualcosa che vuoi farmi sapere io ho appena un paio di minuti, vi saluto va bene? quindi cucù, cucù ora tocca, tocca, tocca a te iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte di questa community su youtube, la OOPS community lascia un like se il video ti è piaciuto e se hai un po' di tempo e hai voglia magari anche un bel commentino per farmi sapere cosa ti è piaciuto del video oppure che video vorresti vedere il video di oggi finisce qui ma se tu vuoi restare ancora con me io ti lascio il mio video precedente una mia playlist e il tasto per andare sul mio canale a vedere tutti i video e i shorts che vuoi io ti mando un grande grande bacio e buonanotte 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 buonanotte